Benvenuti in un nuovo video! Ci siamo abbinati anche al calendario di MyProtein Allora, il prezzo di questo calendario è di 88-89€ Ma ci sono rimasta molto male, vi dico anche perché Sono andata sul sito, a distanza di io, l'ho ordinato il 10 ottobre, oggi il 19 e il giorno del calendario non è più disponibile Però, da una parte mi diceva, il calendario sta per arrivare, avvisami Dall'altra mi diceva, il calendario non è disponibile Allora, ho detto, ok, facciamo una cosa, andiamo un attimo a ripiro a Gordon, fammi vedere se ci sta Oppure perché per tutto il mese di ottobre c'è stato lo sconto del 30% Infatti io l'ho pagato 56-57€, allora è andato subito sold out Perché 56€ per un calendario del genere è molto bello Si può anche dopo riutilizzare, buttate le caselle dentro, ma avete i grassettini Quindi è veramente tanto, tanto comodo 56€, secondo me, solo per l'estetica Va bene Però mi dispiace perché Io però faccio uscire lo stesso Che così se dovesse ritornare disponibile, lo acquisterete Comunque vi lascio sempre il minutaggio dove vi daremo le nostre conclusioni finali All'interno troveremo, ve lo dice, penso che My Vegan, My Protein e My Vitamins, che sono le tre linee di My Protein La prima, abbiamo il primo cassetto fu l'appo, quindi fa il pieno Train, strong, allenamento forte Ed infine mental strain Forza mentale Quindi andiamo a cercare la casella numero uno E anche la casella Che casella è enorme È bellissima, tutta olografica Bella, bella, bella Andiamo It's a healthy breakfast Qualcosa di per la colazione Però è curato veramente il mio dettaglio Non ho mai pensato un calendario My Protein Shake Shake, shake, shake Vai, 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 un tasto è pieno Wow Questa la scritta azzurra, vabbè raga, non c'è quello che gli volevo dentro la carta È un semplice shaker, molto grande Se vuoi quello da 500 ml Sì Tu è Meal Prep Today Guarda com'è bella, senti tipo scacchi Bella, mi ricorda un po' Harley Quinn Meal Prep Today, già l'ho detto Che c'è dentro? Oh, Flavor Pro Mi mancava Come profuma? Flavor Pro Gusto Paniglia È plastica Ah, ok Non si rompe neanche Eccolo qua Che bello No, io da Me Protein mi aspetto veramente tanto Non ho profumato No, ma molti si trovano bene Quindi lo proverò Ok, inizio a fare la terea Che sto? Glitters of water Si apre su una cosa di dolcificante dell'acqua No, è una berretta Che c'è sempre con l'acqua? Crispy layers Wow Oddio, questa è una novità Perché io adoro la linea di me protein layers Adoro Questo ha quel gusto Il cioccolato bianco E up inut Quindi burro de ratti Wow Questa è la buonissima Adoro Già da qui vi dico che ho fatto bene a prendere questo calentario Ma già per il pack, Dalia Seziosa Per niente scontato Capito, dovete vedere la bellezza della 4 4 per 30 secondi Ai Ai Beness Questo è qualche esercizio Bella questa fantasia Vediamo Seguimi una tavoletta di cioccolato Anche se non mi sembra Che abbiano capito No E una protein chocolate salted caramel Wow Cioccolato e caramelo salato Proteino Ci sta Vabbè legato all'allenamento Ci sta È veramente studiato bene Mi dispiace però che non possiate più acquistarlo Spero che ritornerà Un'altra barretta secondo me Che cosa scrive? Put your phone down today Questa è un'altra novità Novità Il pack A meno per me Cioè io non l'ho mai vista così Gusto brownie flotta Si è sciolto Si è sciolto Guarda Si è schiacciato un po' il tutto Comunque è questo qui Barretto Una barretta Sì sì No 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 Crispy waffle Crispy waffle Wow Gusto cioccolato No comunque non vedo l'ora Tutte cose al basso Esatto Non le potrebbe provare Mentre lei No perché non le hanno mai rispettibili Ma se non è proprio una collezione No No secondo me Però hanno cambiato il pack Hanno fatto proprio a tema Con un non puoi so Scacchi Per me hanno fatto i nuovi pack Proprio per il calendario Comunque mentre le cose Ci tenevo comunque a dirvi Che nel corso del mese di dicembre Comunque ci saranno i video Recensione Quindi Non vi preoccupate Ovviamente ne vlog Sette Qui non c'è No Dai dovrebbe stare qua No Eccola Take cold shower E' la doppia prima I miei pack Bello Dobblies of the brownie Sempre un brownie Però gusto Cioccolato crispy Eccolo qua Io tanti di questi prodotti Non li ho mai visto Bello costoso Però eh A me però Devo dire così Esatto Tutta holografica Ritorniamo 8 minuti di danza 8 minuti di danza 8 minuti di danza Ok Holografica Bellissima Biscotto Ah wow My vitamins My vitamins Vital bites Ok Con vitamina D3 Vitamina C Vitamina B12 Esatto Sempre a base di Iacardi No scusate Sempre a base di Solitamente Sono sempre di Vegan anche Come si chiama Dei datteri Allora Sì Sicuramente così Perché queste principalmente Hanno sempre la stessa formula Concezione Ecco Adesso Non ci ho andato Qualsè Comunque Reutilizzati Vieni Perché è molto Però mi dispiacerebbe Buttare tutte queste caselle Infatti Sono proprio belle Questa è un'altra Bustina Secondo me Di proteine Però lo sapete Cos'è il bello Perché ne abbiamo incontrate Solo due No Ho due Pure aperta E questa è la seconda C'è Ci sta Ci sta Sì Bustina Wow Queste sono Buonissime Sono le Clearway Isolate Gusto Cranberry E strawberry E raspberry Guarda Eh Queste sono Super fresche Wow Mi gusta 10.000 steps 10k steps Ah Ma è troppo bella Stava Bella Mi piace un sacco Anche a me Questa trama L'hanno fatto un po' a passo Secondo me sì Sì Layers Vedete Crispy layers Queste sono tutte Novità Perché questo è gusto Chocolate caramel Crispy layers Buonissime È la mia linea Per ferita Quindi io contengo Sono buonissime Ok Undice Apriamo L'undicesima Si aprono di qua Barretta Non l'hai vista Ah Vegan Questa è la piccolina Choc Chiuvo Chiuvo Choc Chiuvo Mai vegan Gusto Caramel Piccolina Sì Non l'ho mai provata La 12 È una bella botta Di Forse è una crema Si forse è una crema Che c'è scritto? No Un po' leggero Do a random act of kindness Ah Che integratore Giustamente Linea All vitamins Multivitamin gummies Adoro Con 9 vitamine essenziali E minerali Sono 30 gomme Lemon flower Dai ci siamo fatto pure Un gusto che può piacere a tutti Che buone Sono curiosissima Curio Ma questa è una novità Anche il pack Mi piace questo fatto Di trovare prodotti Comunque anche nuovi Io adesso non so bene Se le altre già c'erano Ma io non l'ho mai vista A meno quei gusti Ma Wow Questo mi ispira tanto Qui Posso usare anche la D12 Allora lo stesso pack Quindi chissà Hey Zero caffeine today Qualcosa vola a fatti Mai provato Double dog brownie C'ha proprio il doppio Gli altri brownie Che c'erano in commercio A parte che erano Sempre questa forma Diciamo Simil quadrato Però erano normali Questi invece sono farciti Hanno proprio lo strato Sono veramente Tanti prodotti Naturali E avrei tante merende Spunti Mi vita Sicuramente non lo avremo Più Eccola Squat jumps Bella grande Però leggera Scusami Che carina Sei grande Ma sei leggera Cos'è? Portapillole Portapillole Oh Che bel colore Questo colore È fatto bene Bello Reggirino Dai ci sta Portapillole Ok Apriamo la 15 No No Sto sotto Vediamo cosa c'è Second star jumps Cattolina Ma hai provato Baked cookie 14 grammi di proteine Gusto Cioccolato Cioè con gocce di cioccolato Wow Bello Carina Mi piace Have your five day Ah non si apre di qua Ma cosa di caramelloso Wow Impact Cookies and cream flavor bar 20 grammi di proteine 2.6 grammi di zucchero Che caramello Wow Wow Veramente La faccia Wow Spera ma che No Tutti e due arancione 17 Minutes Walking Sette Cookie Questo 15 L'ho provato Questo qua Gusto Doppio cioccolato E pure di arachidi Questo però È la visione Mai vegan Quindi vegan Perché il tuo numero È 19 Prendiamo 18 E 19 Io apro la 18 E torno la 19 Andiamo in 18 Insieme Insieme Vai Vai Admi Wow Questa è cosa fare Da l'arena Odei Con i cioccolati La cena Wow Zina The pre-workout Orange Mango E passion fruit Dai alla fine ci sta Trovare qualche bustino Ma all'accesso Nella 18 Più della 19 Eh Infatti Però Dai Trovarlo ogni tanto ci sta Questo devo farla vedere Ok Plan for 21 seconds 20 La ventina Layers Bustos Speculous Ci sta Cannella Ci sta Troppo contenta Invece questa Che è la 21 Che è qualche bustina Sicuro E me l'aspetto così Sì ma vitamine niente Mai vitamine Niente In concrata cos'è Collagen 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 No Collagen Powder Che è la pesca Pitch T 20 grammi di collagene Idrolizza I peptidi Pitch T 21 grammi Bella Questa La do io Poi L'abbiamo già Presa SIT UP SIT UP SIT UP Un altro di questa Questa è sempre con la sapuzione cereali Musso Salted Caramel Anche Eccolino Sì Interessanti Tipo Speculous Da provare 23 23 Scusa Un altro busto In più Questo è qualcosa di No Una pistina di Impact Whey Protein Sì C'è altro da un mio Cinnamon Delish Questa è un altro busto Nella Brava Lanziamo l'amantidella Candella Ma Non togliamo la scena Il nostro bellissimo 24 Non sono 24 No Ho paura Ho paura Ho paura Don't count your macros today Non contare te i macros oggi Quindi è qualcosa di calorico Secondo me No? Un'amantidella Un'amantidella Siamo sempre In fact Cioccolato Condenter Il sanguarino Mamma Protein Cioè Io ti amo Però Un calendario Un calendario da paura Forse io ce l'avrei messo Avrei invertito Avrei messo la Speklus Delayers Anche perché Non contare te i 4 ore Di metto cioccolato Condenta No Mi sono rimasto un po' male Per tu sai Ti guarda Vabbè Però No Vabbè Aspettate Modiamo le vocabine finali Mettiamoci Per il tuo Malare E far malire Allora Conclusioni finali Allora Mi è piaciuto tantissimo E È il secondo calendario Che abbiamo oggi Quindi ho aperto Già con un altro Che è uscito A me questo Mi ha rapito Ho mangiato I pecc Solo che Sì Poco Linea Ma evitamente Ebbene Abbiamo trovato Più Barrette Ovviamente Mai protei Avrebbe fatto più piacere Vabbè Però capisco Anche che Magari Molti Sono Allora Le barrette Sono tutte Nuove Cioè Sono tutti I gusti Almeno per me Sono tutte cose Nuove Che non ho mai provato Cioè Io quei gusti Non li ho mai visti Poi ditemi Anche voi Ok Io sul sito Di me protei Non ci vado Forse da uno o due Messi Che non mi vado A fare un bel giro Però Wow A me sono tutti I prodotti nuovi Quindi io posso Girare tantissimi Altri contenuti Sì Nei vlog Ci saranno Tanti i vlog Da provare Infatti Speriamo che Ritorni comunque Disponibile Perché mi dispiace Che adesso voi Non possiate comunque Più acquistarlo Però Volta una dici Forse Se vale 90 euro Allora 90 euro Forse un po' Però alla fine Voi su miei prodotti Non lo pagate mai 90 euro Perché ci sono sempre Tutti i giorni sconti Quindi È più probabile Che lo pagate scontato Che a prezzo pieno Quindi Per me Che l'ho pagato 57 58 euro Con spedizioni Gratuite Corriere GLS Dopo due o tre giorni Mi è anche arrivato È wow C'è Il top del top Io Mi sento di consigliarvelo Anche a me è piaciuto Anche perché potete riutilizzarlo Poi le caselle sono particolari Da preziosi Mi piace Da aprire quotidianamente Sì Ma poi l'aprita la mattina Mi fate pure una colazione Ci sta Ci sta Quindi io Molto molto soddisfatta Lo pongo anche tu Sì Noi veramente Speriamo che questo video Vi sia piaciuto Vi diamo appuntamento Con i prossimi video Ma vi diamo appuntamento Anche con L'ultimo calendario Che andremo ad aprire Insieme a Dicembre Quindi Un bacione Che andremo appuntamento